L'articolo che troverete nella rubrica presupposti del mese di aprile della rivista mensile Dr. Ross tratta delle novità più rilevanti e recenti introdotte dal governo Monti. Gli ultimi mesi del 2011 e i primi mesi del 2012 hanno visto l'introduzione di tantissime novità normative. Per questo motivo abbiamo voluto segnalare quelle di maggiore impatto negli studi odontoiatrici. In primo luogo abbiamo l'attesa prorga del termine di versamento dell'imposta di bollo sulle attività scudate, termine precedentemente previsto per il 16 febbraio, prorga che è arrivata in extremis solamente il giorno prima, ma è comunque una buona notizia in quanto le modalità di calcolo dell'imposta di bollo sono particolarmente complesse e pongono una serie di casi sicuramente delicati da analizzare. Altra novità è legata all'abrogazione del documento programmatico per la sicurezza in materia di obblighi di privacy, in materia sicuramente importante per gli studi odontoiatrici. L'abrogazione del DPS in realtà non semplifica la normativa in tema di privacy, permette solamente di non aggiornare e tenere questo registro. Abbiamo ancora altre novità in tema di spesometro, che è stato innovato a partire dall'anno 2012. Lo spesometro era già noto agli odontoiatri con il vecchio nome di elenco clienti e fornitori. La novità ha comunque degli intenti di semplificazione. Quindi sulle tante novità possiamo dire, dopo le molte imposte introdotte, incomincia a esserci qualche semplificazione e qualche chiarimento. Sicuramente le novità e il lavoro da fare è ancora molto, ma incominciano a vedersi alcuni segnali positivi. Sul gran numero delle variazioni in campo normativo, l'odontoiatra ha sicuramente la necessità di formarsi anche per la parte contabile e fiscale. Buona lettura quindi a tutti e arrivederci!